Prima di cominciare il libro dell'Anticristo avevo lasciato a metà nella trasmissione precedente un discorso sul NDE, cioè le esperienze di premorte. Ho detto che il giornale dei misteri mi ha pubblicato un piccolo estratto di una lettera che avevo mandato, usandola un po' strumentalmente. In pratica, nella lettera che avevo mandato, quello che è stato il giornale dei misteri, era la percezione soggettiva di quanto si percepisce un attimo prima di morire. Nella lettera è specificato, e anche dalla conferenza tenuta a San Marino è venuto fuori l'effetto, che tutte le percezioni in situazioni di premorte, sono percezioni, quasi tutte le percezioni sono percezioni di natura educazionale, cioè le visioni che si hanno sono visioni educazionali. Poi ci sono degli effetti che appartengono a degli effetti dovuti a collassi chimici, cioè quando il corpo sta morendo o è in grave crisi, non fa altro che collassare chimicamente, emettendo delle sostanze che permettono di avere la luce, la pace, che permettono di vedere il tunnel, che permettono di vedere esseri strani. E queste due cose, cioè il condizionamento educazionale e il collasso chimico, vi ricordo che quando abbiamo parlato del crogiolo del stregone, vi ho detto che la meditazione serve per scatenare delle sostanze chimiche all'interno del corpo, vanno a creare quelli che sono gli effetti della premorte. Però esiste una variabile di questi effetti che è la percezione, cioè l'individuo che vive l'esperienza di premorte o l'esperienza obe, cioè il viaggio astrale, ha anche delle percezioni sensoriali, cioè praticamente vede delle cose spesso documentabili, cioè specialmente adesso con le camere di rianimazione, c'è la persona che per esempio vede l'attività dei medici che si fanno attorno al suo corpo e la vede da una posizione alta della stanza, vede delle cose, per esempio c'è uno degli episodi più famosi, sono le scarpe rosse sul tetto, cioè una donna si è risvegliata dal coma e ha raccontato di aver visto sul tetto delle scarpe rosse, chiaramente è stato un po' preso in giro, però un medico è andato a verificare e ha trovato le scarpe rosse. Esiste tutta una serie di anedotica da questo punto di vista che testimoniano come in alcune persone, non in tutte le persone, c'è la costruzione di un corpo luminoso e la capacità di trasferire la coscienza, la consapevolezza sul corpo luminoso. Chiaramente non tutte le persone lo hanno, la maggior parte delle persone ha quegli effetti NDE legati essenzialmente al collasso chimico del corpo, al lato di crisi, cioè al rilascio di sostanze, le pseudomariuane, le pseudomescalina, per cui danno effetti pseudoallucinogeni e hanno effetti legati al proprio condizionamento educazionale, cioè il fatto di vedere Dio, la Madonna, i Santi, oppure di vedere il Buddha, vedere il Vishnu, di vedere a seconda della religione a cui appartengono. Poi c'è una gamma di casistica in cui è riconosciuto il fatto che esiste una percezione estrema, una percezione che va oltre quello che è il corpo fisico della persona. Questo è in sostanza il discorso degli effetti di premorte, che si chiamano in iniziali parole inglesi NDE, oppure di effetti OBE, che è il volare col corpo astrale. Però il volo col corpo astrale, il fatto di spostarsi, non sempre avviene nell'ambito del mondo concepito con la ragione. I sensi del corpo astrale sono diversi e percepiscono cose diverse del mondo, specialmente per chi non ha avuto un effetto casuale ma chi lo ha costruito per lungo tempo. Il fatto di conservarlo o perderlo, questo, è dovuto al suo intento, è dovuto al fare quotidiano. Detto questo, che sono tre o quattro cose di cui approfondiremo man mano che andremo avanti, anche perché dopo il libro di Anticristo affronterò altri libri. Oggi dal libro di Anticristo prenderò uno dei passi più difficili, più inverigolati, più assurdi che abbia scritto. Ricordo che l'ho scritto sempre dodici anni fa ed è Energia Vitale e Materia. Vi ricordo sempre che stiamo leggendo la quarta parte del libro dell'Anticristo, cioè l'Anticristo e il mondo circostante. L'Anticristo e il mondo circostante va a identificare quegli aspetti della vita, quegli aspetti del mondo che sono propri del divenire umano, cioè non sono legati alla concezione della ragione alla concezione della descrizione del mondo, alla costruzione della forma, ma tendono a legare il mondo della descrizione, il mondo della forma, al mondo della percezione. Siccome questo libro io l'ho scritto mentre stavo effettuando il passaggio e stavo cercando di capire in che modo e perché stava avvenendo questa percezione di cose diverse, è scritto nel linguaggio di dodici anni fa, oggi lo scriverei in maniera diversa, però ho voluto lasciarlo così proprio come testimonianza di una percezione e di uno sforzo di descrivere quanto dalla percezione arrivava. Energia vitale e materia. Qual è la differenza tra energia vitale e materia? Come l'una e l'altra interagiscono? Perché la scienza, pur avendo definito in vario modo l'energia, non ha una formula o un'indicazione per l'energia vitale? Perché tutti i riferimenti all'energia vitale o sinonimie ad esseri conducibili appartengono quasi sempre ad alterazioni della percezione e mai al reale del quotidiano? Perché gli studi scientifici, tali da individuare questa forza all'interno della natura, spesso hanno dato risultati contrastanti, tanto da risultare inattendibili o di scarso valore? A questi vanno aggiunti molti altri perché e a tutti questi perché si può dare una sola risposta, la quale però non li risolve ma ne ripropone degli altri. L'energia vitale e la materia sono la stessa cosa, o meglio, la base intima dalle quali l'una e l'altra scaturiscono è la stessa cosa. Si può dire che sono la stessa cosa ma non sono la stessa cosa. Si può dire che sono la stessa cosa e non sono la stessa cosa, oppure sono la stessa cosa organizzate in maniera diversa. Si può parlare di un diverso rapportarsi fra loro degli elementi costituenti. Non penso si conoscano nel mondo reale i nomi o immagini degli elementi comuni costituenti i mattoni costitutivi dell'energia vitale e della materia e come l'una e l'altra interagiscono o quali sono gli strani intermedi fra l'una e l'altra. Attraverso un rapporto dialettico l'una si trasforma nell'altra e l'altra nell'una all'interno di un continuo mutuo scambio. Se l'essere umano è portato a pensare come una divisione netta fra energia vitale e materia, questo è dovuto alla sua natura, all'uso dei suoi sensi e della loro organizzazione coadiuvata dal giudizio del pensato. Esistono un numero enorme di stadi differenti della materia e un numero di stadi identificabili con l'energia vitale come esistono stadi di interazione fra i due momenti ad un livello di stabilità chiamato coscienza. La scienza non è giunta ad individuare l'elemento costitutivo fondamentale dell'universo comune alla materia e all'energia vitale. La scoperta del fotone e delle varie particelle subatomiche con i vari acceleratori si avvicinano sempre più a quello che la scienza definisce l'infinitamente piccolo e nessuno saprà dire quando quell'elemento sarà individuato o se magari è già stato individuato ma non è stato compreso. Per quanto gli strumenti di misura umana possono rilevare l'infinitamente piccolo ed anche qualora potessero farlo, la messa a fuoco di tali strumenti sarà sempre per convenzione regolata sulla descrizione del quotidiano della ragione e difficilmente potrà essere introdotto un nuovo elemento tale da modificare la descrizione stessa. Senza contare che qualora ciò avvenisse non è detto che il punto di vista della scienza venga modificato. La storia scientifica dimostra come non sia sufficiente scoprire la verità, è necessario che questa verità sia funzionale al comando sociale altrimenti questi fare di tutto per annullarla o farla cadere nell'oblio. Perché occultisti e individui dalla percezione alterata o pazzi sono venuti all'intuizione dei flussi dell'energia vitale mentre gli altri esseri umani non vi degnano attenzione? Perché l'essere umano come tutti gli esseri viventi della natura è un'amalgama funzionale di energia vitale e materia. Il mondo reale della ragione è fissato nella materia. Come l'essere umano altera la percezione dei suoi sensi entra in contatto con l'organizzazione dell'energia vitale del circostante. Alterare la percezione dei sensi non è normale nel mondo in cui viviamo. L'alterazione della percezione dei sensi porta immediatamente a staccare l'essere umano dal comando sociale del sistema sociale in cui vive. Egli per il comando sociale diviene un paria nel proprio sistema sociale. In quanto questo è costretto a provvedere nei confronti di un individuo che introduce turbative nella sua struttura di controllo. Sono sempre esseri umani e marginati rispetto al comando sociale del sistema sociale in cui vivono aggiungere la percezione dell'energia vitale o energia vitale organizzata. Quando la loro percezione per motivi storici o congiunturali diventa tale da mettere in discussione il comando sociale nella sua attività coercitiva all'interno del sistema sociale, il comando sociale provvede alla cooptazione di costoro al suo interno. Prima li perseguita, modifica il loro livello e la loro profondità percettiva, cede qualche elemento secondario del suo controllo, finché i loro continuatori seguaci diventano comando sociale a tutti gli effetti. Poi qualcuno sarà raffigurato con qualche effigie, il suo linguaggio diventerà ermetico e tutti gli altri esseri umani in ginocchio. La risposta da cercare è alla domanda perché l'essere umano percepisce l'energia vitale in quella determinata struttura o se vogliamo perché alterando la percezione sensoria l'essere umano percepisce quella specifica diversa organizzazione della materia? Perché quella specifica diversa organizzazione della materia va sotto il nome di coscienza ed è questa a catturare la sua attenzione ad un determinato livello di alterazione della percezione. La coscienza di sé è energia vitale organizzata in modo particolare. Direi, descrivendo immagini di visioni, quasi energia vitale che oltre ad avere la caratteristica del movimento è la capacità di strutturarsi dando vita alla materia alla capacità determinata da forze e circostante di mantenere unita e modificare la vibrazione interna. Una struttura cosciente di sola energia vitale non pensa, in quanto il pensiero è una proprietà della ragione umana. Anche affermare che percepisce se stessa mi sembra molto inadeguato. La visione produce un chiedi compatto entro il quale c'è movimento, bisogno e scelta della direzione. Dal punto di vista filosofico si può fermare l'esistenza di natura e libertà. Anche questo mi sembra una trasposizione umana della ragione in qualche cosa non comprensibile alla ragione. Preferisco rimanere sul vago. Il mio condizionamento educazionale impone alla mia ragione di elaborare un giudizio attraverso il pensato. Dunque chiudo la percezione dell'emanazione, fenomeni o messaggi, di questo oggetto e mi attengo all'immagine della forma riferita alla ragione, come ammasso di energia modulata e vibrata. Sento giungere un coro di affermazioni. Questa è l'anima al tempo. La visione è mia. Me la sono guadagnata con anni di lavoro, anni nei quali procedevo a modificare me stesso e non permetto a nessuno del comando sociale o delle sue emanazioni o proposizioni ad esso attribuite o attribuibili di invadere il mio essere e la mia percezione. Il termine anima è un termine strano alla mia cultura e alla trasformazione del mio condizionamento educazionale. Il vostro Dio darebbe questa cosa chiamata anima all'essere umano e ne priverebbe tutti gli altri esseri viventi della natura. Merda! Attraverso l'anima il vostro Dio vi garantirebbe un passaggio gratuito nell'aldilà, mentre le piccole tartarughe nella loro corsa verso il mare non sanno quante di loro vi giungeranno o quante saranno mangiate dai gabbiani. L'anima è un elemento del comando sociale attraverso la quale questo gestisce la coercizione nei confronti del sistema sociale, rende l'essere umano cieco nei confronti della natura, anche sul piano della ragione nel quotidiano. Niente da fare, l'anima è un qualche cosa di inesistente, di irreale, l'energia vitale impregna il circostante, è il circostante. Noi, come esseri viventi della natura, percepiamo la materia come un insieme unico, però cerchiamo di guardarci dentro. Quando guardiamo la materia, distinguiamo l'aria dall'acqua, dalla terra. Se, come esseri umani, usiamo strumenti o guardiamo più attentamente, scomponiamo il tutto in ulteriori elementi, i gas dell'aria, i componenti dell'acqua, i minerali, eccetera. La materia stessa viene divisa in materia animata e materia inanimata. A queste affermazioni diamo valori legati ai nostri bisogni, dal nostro essere, in altre parole, da ciò che diveniamo attraverso tutte le trasformazioni attraversate. Ci nutriamo di materia, ma non di tutta la materia. Difficilmente mangiamo i sassi. Mangiamo materia vivente, o meglio, materia organica, di preferenza. Le piante sciolgono i sali e possono accedere, nutriendosi ad altre sostanze della materia. Respiriamo aria, non tutti i gas. Beviamo acqua, non tutti i liquidi. Quando noi ci rapportiamo con la materia, non ci rapportiamo con tutta la materia e con tutte le strutture della materia indifferentemente, ma all'interno della materia scegliamo delle strutture confacenti alla soddisfazione dei nostri bisogni. Eppure, noi sappiamo, attingendo dalla fisica e dalla chimica, dell'esistenza di strutture basi comuni a tutta la materia, consistente in atomi, protoni, neutroni, e come attraverso la disposizione e la struttura degli stessi, dalla struttura degli stessi provengono i vari elementi, alcuni funzionali alla soddisfazione dei nostri bisogni, altri non funzionali alla soddisfazione dei nostri bisogni. Altri elementi, come il polonio, il radio e il plutonio, ci sono estranei. Così è per l'energia vitale. Questa la troviamo strutturata in vari modi, dall'energia vitale libera nell'aria che assorbiamo attraverso il respiro, almeno fino a quando l'eccesso di ossidi non ne rallenta la vitalità interna, oppure appena scaricata da altre concentrazioni di energia vitale. C'è l'energia vitale molto ricca di vitalità e movimento, ed è quella scaricata dal rapporto da coscienza di sé. E c'è quella molto povera, emessa dagli adoratori di impossibili dei creatori, quando non è addirittura ferma, identificabile con l'energia vitale stagnata, l'energia vitale priva della propria vitalità interna. Scusate. Scusate un attimo. C'è l'energia vitale che assorbiamo con il cibo, c'è quella scambiata col partner quando si fa l'amore, c'è l'energia vitale dispersa dal pianeta ed utilizzata in generale dalla natura, e quella emessa dall'essere sole. Ognuna di queste energie vitali hanno sapori, intensità e colori leggermente diversi l'una dall'altra, più o meno come è diverso il sapore delle carni, dei diversi animali, anche quando sono cotte tutte allo stesso modo e con gli stessi ingredienti. L'energia vitale, come la materia, tende ad aggregarsi solo sotto spinte o tensioni particolari. Viene considerata energia vitale libera quella che si muove nell'aria a disposizione di tutti i viventi che la assimilano attraverso il respiro. Quando si realizzano particolari tensioni, la concentrazione di energia vitale tende a compattarsi, a non muoversi senza meta, disperdendosi nell'aria, ed esprime il bisogno di espansione. L'autocompattazione e l'espansione sono i bisogni dell'energia vitale divenuta coscienza di sé. Come la materia, l'energia vitale vaga e si propaga in moto nello spazio, di cui quest'ultima è il reale elemento costituente. Si potrebbe dire, senza sbagliare, che l'universo è composto di sola materia. Si potrebbe dire, senza sbagliare, che l'universo è composto di sola energia vitale. Ma quando parliamo di noi, e fra noi, dobbiamo tenere presente che noi siamo esseri della natura. Gli esseri della natura hanno una caratteristica. L'energia vitale, allo stadio di coscienza di sé, può rimanere compatta, costruire esseri coscienti provenienti dalla natura, solo attraverso un processo interattivo con una particolare forma di materia, detta biologica, alla cui carica iniziale sia di materia che di energia vitale, subentra un processo di arricchimento in cui il percorso di sviluppo della prima porta alla compatazione della seconda, fino a renderla cosciente di sé, indipendente ed autonoma. Come esistono stadi diversi della materia, così esistono stadi diversi dell'energia vitale, esseri strani ed estranei. Strani ed estranei Questi li posso guardare. Quanto a provare a descriverli, pur provandovi, le parole e i concetti della ragione non sono sufficienti. Sono inadeguati. D'altronde, descriverli o non descriverli non cambia la vita degli esseri della natura. Sono tanto estranei dal mondo della ragione da chiedersi se mai con costoro, coscienza di sé, sarà mai possibile rapportarvi sì. È come se l'essere umano volesse, nel mondo della ragione, discutere di filosofia trascendentale con un essere parameccio. La parte del parameccio non posso decidere io a chi la fa, cioè fra l'essere di energia e l'essere umano. L'energia vitale segue le leggi della sua stessa natura, muovendosi e stratificandosi, trasformandosi in materia e, in condizioni particolari, tensioni interne ed esterne ne sviluppano il bisogno di compatazione e di espansione. Il movimento finalizzato alla soddisfazione di tale bisogno è chiamato sviluppo della coscienza di sé. Tale coscienza si sviluppa rapportandosi dialeticamente con altre coscienze di sé. Questa è la ricchezza dell'universo. Rapportarsi, vorrei fare una pausa, rapportarsi dialeticamente significa che una riversa ciò che ha nell'una, e l'altra, cioè l'una nell'altra e l'altra nell'una. Cioè quando due esseri, due coscienze, vengono in contatto, quando si staccano non sono più uguali a prima, sono diverse per la relazione avuta, perché una ha lasciato qualcosa nell'altra e l'altra ha lasciato qualcosa nell'una. Questa è la relazione dialettica, è intesa in termini marxiani, non in termini aristotelici. Non esistono dunque, vado avanti, non esistono dunque due cose diverse, materia ed energia vitale, ma una sola cosa, strutturata in maniera diversa, dove il rapporto materia ed energia vitale è puramente funzionale alla costruzione delle varie coscienze di sé nella natura, e da queste percepito mediante la peculiarità dei loro sensi. È un espediente, o se vogliamo un adattamento adottato dall'energia vitale, al fine di produrre quella concentrazione e quella tensione il cui sviluppo può produrre all'interno della natura coscienze di sé. Esistono altri modi attraverso i quali l'energia vitale diventa coscienza di sé, o meglio, esistono altri adattamenti attraverso i quali l'energia vitale diventa coscienza di sé, coscienza di sé, e questo, nel corso dei cambiamenti tempo, è il destino, fra virgolette, o meglio, il divenire della materia, trasformarsi in coscienza di sé, modificando progressivamente la propria struttura. L'energia vitale con tensione interna, divenuta coscienza di sé, è il divenire dell'intera struttura dell'universo, in quanto solo quella struttura, pur sviluppandosi in quanto tale, e per aggregazione di altre coscienze di sé, è l'unica struttura realmente stabile della materia. Tutte le forme dell'universo da noi viste attraverso la ragione sono transitorie. Non solo gli esseri della natura dispongono di un certo tempo entro il quale trasformarsi, opporre le basi per nuove trasformazioni, generare altri esseri della propria specie, sviluppare l'essere luminoso, ma i tempi relativi all'esistenza dell'universo sono limitati anche per il sole, i pianeti, le stelle e le galassie. Finito il loro tempo, cicli di cambiamenti, determinato dalla specificità della struttura assunta per la loro formazione dell'energia vitale in coscienza di sé, seguirà un cataclisma o un numero infinito di cataclismi per noi, tali per cui la coscienza di sé del sole si staccherà e quello che rimane attraverso un nuovo ciclo dà la vita un altro essere. L'esplosione getterà materia nello spazio, distruggerà i pianeti dai quali si saranno staccate o si staccheranno le coscienze di sé ormai libere dall'interazione con la materia, si imposteranno nuovi cicli e così via finché tutta la materia trasformatasi in elemento base costitutivo, energia vitale, si trasformerà in coscienza di sé. Perché questo? Perché è nella natura dell'energia vitale o della materia, come dir si voglia, procedere in questa direzione e la sua libertà, la sua schiavitù è non procedere lungo questo cammino e la libertà delle coscienze di sé sta solo nel rapportarsi o nel non rapportarsi con altre coscienze di sé. L'essere umano non ha molte più possibilità di altri esseri della natura nel riuscire nel corso della propria esistenza a costruire una coscienza di sé sufficientemente forte da poter rimanere compatta e indipendente dopo la morte del proprio corpo fisico. Anzi, per essere soggettati alla ragione e ad un comando sociale il cui scopo è quello di impedire gli esseri dei sistemi sociali l'accumulo di potere personale tale da consentire loro l'effettuazione del passaggio ne hanno molto meno di molti esseri viventi della natura. Se si considera quante uova di storione vanno perdute e quanti piccoli di varie specie uccisi per permettere a pochi individui di vivere la propria vita sviluppando il proprio potere di essere per poter far diventare la propria coscienza di essere autonoma dopo la morte la percentuale di riuscita dell'essere umano per quanto infima rispetto agli esseri umani che falliscono il passaggio per colpa del comando sociale e della sua azione coercitiva non è da disprezzare. Ci sono specie della natura che passano in percentuale altissima per esempio i rettili come lo so lo so non ci credete sciocchi sareste limitarvi a credere vorrei ben vedere che credeste alle mie parole volete verificare? sviluppate il vostro potere di essere rapportatevi con le coscienze di sé esistenti o comunque da voi percepite nelle diverse fasi e nel diverso modo del vostro sviluppo dopodiché verificate da soli. La verità è un processo conoscitivo soggettivo un percorso di sviluppo non è una folgorazione divina anche se si esprime attraverso un susseguirsi di salti di coscienza è un modo per rapportarsi sempre più profondamente con l'esistente. L'universo della materia come noi lo conosciamo descriviamo procede verso la degradazione ma nel farciò sviluppa energia vitale con tensioni interne che diventano autonome da altre strutture dell'energia vitale stessa non so se questa forma è quella struttura semplice invocata dai filosofi come la struttura dell'essere incondizionato se ciò fosse tenendo presente che le coscienze di sé da un dato momento del proprio sviluppo lo continuano per aggregazione finché nell'universo rimane una sola coscienza di sé che contiene tutte le determinazioni sviluppate attraverso tutti i cambiamenti dell'universo stesso diventando questa coscienza di sé l'universo i filosofi hanno fallito nelle loro argomentazioni in quanto l'essere incondizionato assolutamente necessario non sta all'inizio se è consentito a considerare un inizio del processo di sviluppo dell'universo come essere creatore ma rappresenta il divenire dell'universo ciò a cui l'universo dal più grande ammasso stellare al più infimo granello di materia o di coscienza tende nel corso della sua trasformazione divenire l'essere incondizionato assolutamente necessario la questione non va apposta su un Dio creatore ma su un Dio che stiamo costruendo attraverso il nostro divenire dunque siamo Dei che diventeranno Dio o Dei che diventeranno Dei come si vuole chiuso parentesi il divenire della natura il divenire dell'universo la divisione nell'energia vitale e materia è arbitraria come arbitraria è ogni divisione effettuata dalla ragione attraverso il pensato del giudizio noi esseri umani in questa fase non ne possiamo fare a meno la natura è il nostro presente quotidiano è il sostegno del nostro essere corporeo è la finalità a cui tendono i nostri bisogni immediati l'energia vitale è la trasformazione in corso di noi stessi l'energia vitale è la registrazione strutturale del nostro fare e del nostro non fare del nostro sapere della nostra conoscenza del nostro modo di rapportarci col mondo del quotidiano e la nostra coscienza di essere in formazione attraverso la nostra attività ogni azione nel quotidiano si ripercuote nella coscienza di sé il suo sviluppo e il suo potere guida le nostre azioni quotidiane nella coscienza di sé non c'è pensato non c'è pensiero c'è fare e non fare non è una qualsiasi struttura dell'energia vitale ma è la struttura dell'energia vitale di un essere vivente generato e sviluppato sviluppatosi all'interno della natura è una specifica strutturazione divenuta coscienza di sé è materia diventata cosciente la quale attraverso innumerevoli trasformazioni incuba e partorisce o tende a farlo l'essere luminoso qual è il nostro divenire sempre che siamo in grado di accumulare sufficiente potere personale per ottenere il trasferimento della coscienza di sé dal corpo fisico all'essere luminoso l'essere luminoso è materia strutturata in modo specifico materia non spirito né anima né etere materia e non so nemmeno se è struttura base della materia so essere la struttura incorruttibile della materia stessa noi esseri umani possiamo anche rinunciare a trasformarci in esseri luminosi e disperdere la nostra energia vitale al vento e il nostro corpo ai vermi ma una cosa è certa quella energia vitale e quella materia rientreranno in circolo altre coscienze si formeranno altri esseri finché l'energia vitale diventa coscienza di sé non è né compito non è né compito né nelle possibilità dell'energia vitale scegliere cosa fare è la forza interna del divenire di questo universo a non lasciargli alternativa è la logica di se stessa direi la sua necessità cosa c'era prima e cosa ci sarà dopo quando il ciclo sarà concluso non si può dire le visioni danno delle immagini ma quelle immagini mostrano qualche cosa di estraneo fuori non solo dalla comprensione del pensato descritto dalla ragione anche dalla comprensione dei sensi alterati che accumulerà più potere personale di quanto io non abbia fatto e mostrerà specifico interesse focalizzando la propria attenzione potrà sicuramente avere miliardi di informazioni migliori delle mie più precise e più aderenti all'unmenio del percepito potrà descrivere le cose più chiaramente e dare delle indicazioni migliori delle mie questo è molto facile calpesto solo i primi gradini della conoscenza e della consapevolezza però non potrà mai superare le immagini dell'inizio dell'attuale universo e del suo divenire i limiti non sono legati al potere personale ma sono legati alla nostra natura da quello che siamo i limiti della vista come i limiti della velocità di movimento il limite del nostro livello di trasformazione noi esseri umani siamo pieni di limiti eppure la ragione non può nemmeno concepire quante possibilità di noi stessi ignoriamo l'energia vitale produce quella struttura nota come materia e la materia costruisce una serie di condizioni attraverso le quali l'energia vitale si trasforma in coscienza di sé questo che vi ho appena letto è energia vitale e materia so che è un pezzo durissimo e non è neanche scritto benissimo però serve a dare l'idea della interrelazione che c'è fra materia ed energia vitale un'interrelazione talmente stretta che l'una e l'altra sono la stessa cosa l'una diventa l'altra e l'altra diventa l'una eppure la loro formazione è uguale è importantissimo tutto questo perché quello che noi stiamo parlando in questa parte del libro dell'anticristo è l'anticristo e il mondo circostante cioè dal punto di vista del cristiano il mondo è forma in quanto il mondo è creato da Dio Dio non può aver creato una cosa che il cristiano non concepisce o non vede o non partecipa perché il cristiano si definisce sempre creato di immagine e somiglianza di Dio a differenza nel paganesimo e nella stregoneria c'è sempre una trasformazione soggettiva cioè c'è l'intervento della volontà soggettiva dell'individuo che tenta di superare continuamente i limiti che gli sono imposti gli sono imposti dal condizionamento educazionale dal sistema sociale dalla cultura dalle tradizioni cioè l'individuo tenda sempre a superare qualsiasi qualsiasi legame qualsiasi blocco e gli incontri in questo sforzo attraverso queste determinazioni egli allarga la sua percezione allarga la sua conoscenza allarga il suo modo di affrontare il mondo lo fa diventare diverso in pratica prende nelle sue mani la sua vita e le sue decisioni questo è possibile solo nel paganesimo e nella stregoneria non è possibile nelle altre forme perché le altre forme partono sempre dal presupposto che un individuo è creato dipende da qualcosa dipende dal volere divino dalla parola divina dipende dalla creazione cioè dipende da un finito da una verità una persona è una verità alla diversità di questo si contrapone proprio il paganesimo alla stregoneria dove i limiti della persona non sono dei sono dei limiti perché esiste noi siamo limitati perché abbiamo un corpo fisico e abbiamo una percezione che ha necessariamente dei limiti però questi limiti non sono determinati noi abbiamo la capacità di espandersi nei quattro canti del mondo direbbe un antico stragone e abbiamo queste possibilità che dobbiamo fare nostre perché questo perché l'espansione di un soggetto anche dal momento in cui il feto si produce nel corpo della madre avviene mediante la propria volontà le proprie determinazioni avviene mediante le scelte soggettive mentre invece la distruzione di un individuo il suo essere messo in ginocchio avviene attraverso l'oggettività cioè è l'oggettività che ti impone di limitarti di non dire questo non fare questo qua no qui no qui no qui no e qui no qui no richiudono la capacità di espansione dell'individuo la riduce progressivamente finché l'individuo si ritrova in ginocchio allora mentre l'espansione dell'individuo nel mondo avviene attraverso un atto di volontà un atto di determinazione soggettiva la distruzione dell'individuo avviene prima quando l'individuo rinuncia ad usare la propria volontà rispetto al mondo perché o ne ha paura ne è bloccato ma quando il mondo riduce la capacità dell'individuo di agire proviamo a vedere pronto? si? si gamma 5 gamma 5 senta meno ciò più gamma 5 questo radio ostraga non so cosa dirti dove sei c'è qualcuno che disturba? no non c'è nessuno che disturba? no ma non so cosa dire allora prova ancora o forse la radio sarà un po' guasta lo l'ho provato tante volte eh e non non so cosa dirti se non ci sono altri canali che disturbo bene ora mi reso rimando i sei uri a mamma Pierina va bene e dopo che tefono va bene vedersi mamma Pierina e Gianni d'accordo e tutti quanti ascoltatori va bene e sono Riccioli d'oro no 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 non metto su musica io eh io sto solo parlando niente musica niente musica va bene saluti mi dispiace per la radio ascoltatrice che non trovava più la radio probabilmente non ha neanche ascoltato quello che stiamo dicendo comunque i processi sono questi il processo è di espansione della persona attraverso un atto di volontà e di determinazione la distruzione si ferma la volontà e la determinazione nel quel momento in cui si ferma si è preda del mondo in cui si vive può essere il mondo sociale il mondo economico ma anche il mondo della percezione anche il mondo spiritistico anche all'interno dell'io psichistico ogni volta che si che si ferma lo sviluppo della propria volontà delle proprie determinazioni ogni volta che si che si rinuncia a sviluppare il proprio potere di essere si comincia un processo di distruzione per cui per noi è importante stabilire che il mondo della materia e della forma non è un mondo assoluto cioè noi non siamo ragione la ragione è un modo con cui rapportarci nel mondo quando abbiamo avuto il cervello bloccato abbiamo cominciato a sviluppare la parola abbiamo cominciato a descrivere ma l'essere umano non vive descrivendo cioè i milioni di anni vissuti decine di milioni di anni vissuti dal giorno in cui siamo usciti dal brodo primordiale avevamo coscienza avevamo consapevolezza avevamo bisogno di espansione ma non avevamo la parola gli esseri animali l'essere umano è l'unico essere della natura a parte qualche qualche altro che si sta avvicinando in questo momento che parla anche quando pensa che è una cosa aberrante veramente aberrante infatti uno dei più grossi sforzi in stregoneria che si fanno è quello di bloccare il dialogo interno per permettere il fluire delle cose il dialogo interno tende a bloccare il mondo circostante tende a tenerlo là perché? perché ci lega alla forma ci lega alla descrizione e noi continuiamo a descrivere continuamente questo è bello questo è fatto così la forma e mentre noi continuiamo a descrivere blocchiamo l'arrivo alla nostra mente di nuovi fenomeni per cui gli oggetti che noi percepiamo li percepiamo all'interno dei fenomeni ma solo dei fenomeni descritti cioè solo del numero di fenomeni che noi riusciamo a descrivere la stragoneria e il paganesimo sanno benissimo che un oggetto ha moltissimi fenomeni che noi scartiamo perché non siamo in grado di descriverli cioè a misura in cui noi non siamo in grado di descrivere un fenomeno facciamo finta che quel fenomeno non esista per cui la stragoneria e il paganesimo mettono in luce sempre la quantità di sconosciuto che è superiore al conosciuto vediamo un attimo pronto? Lili De Maestri ciao Micheleli buonasera buonasera sono Lili De Maestri dica tutto niente ascoltavo questa parte di spiegazione ma c'è tra veoce che era ditta e tutto bisogna proprio riflettere bene e speriamo che torna ora per capire meglio la farinatura è la tua però bisogna proprio andare dentro capire meglio però forse sono inesperta su questi argomenti comunque ascoltare e senti una cosa sono contenta perché Dario fa io applaudio e l'unico che sta applaudito tanto che capivo cosa che voleva dire questo mimica cosa che voleva dire purtroppo è cesano che va bene anche qui è un altro diremmo martire un altro seppioldo come che è solo che ora è la sensi infusa è il papa che è la sensi infusa ecco qui ecco mi sta tanto contenta che abbia applaudito perché una persona e tutte le persone che ha persone più intelligenti veniate che capivo lo spirito dell'uomo e che capivo anche allora la motivazione per cui hanno scusa lilli la motivazione per cui hanno dato il premio nobel a Dario Faux è per aver contribuito al progresso dell'umanità certo eh vergine disacrando buttando è così è ne ha verti gli occhi ben ecco è ne ha verti gli occhi ben ha fatto la parte del giullare è bello bello mi sta a parte il vaticano a parte qualche dù come berlusconi che ha detto così che veramente è tutto da ridere ecco invece di essere orgogliosi che c'è delle persone che io applaudio più di tutti vedi lilli c'è un particolare io ho visto mistero buffo nel 1968 mi sei sì bene quel mistero buffo era completamente diverso dagli ultimi misteri buffi ah sì come mai credo che ci siano state 40 versioni di mistero buffo ma quelle del 68 non sono più state ritirate fuori perché erano troppo dure troppo dure e nega per me di confronto della chiesa no vabbè lui le ha modificate sai si modifica un pochino ho capito mi avevo mi avevo visto dario foo a quale togno e a me si è andata c'è io solo ti passa il tempo come niente comunque se c'è un piaccio comunque sono contenta se c'è una cosa che io vorrei scusa Lilli ne sto approfittando se c'è una cosa che io vorrei che qualcuno guardasse di Dario Fo è storia di una tigre ah sì non l'ho visto e se sarà occasione o se metterà qualcosa in cassetta in qualche parte vedremo ecco comunque c'è in cassetta è già in cassetta si vengono le cassette storia di una tigre storia di una tigre mi ha sempre piaccio che ho sempre seguito anche qui altri diceva che c'era un po' lo simpio e ci si aveva dispressato però ho avuto una soddisfazione grande vedere che c'era che ho applaudito tanto e ora dico non c'era proprio una testa d'amo che a volta che dicevo che mi piaceva veramente inchinarsi a sua persona dicevo perché veramente sai ci sono tante persone che fanno dei piccoli regali di monta e come che ho consolato e ho detto guarda quanta testa d'amo che c'è a Stoccolma che ho applaudito come che ho fatto a me e ora ho detto non so guarda quanta gente comunque ho detto ancora la chiesa si impie per potere perché si chiara e che ne ha tanti fioi tanti e perciò puoi comprare e gente che si vende che ne ha tanta ecco sarà non per vocazione se che dà possibilità di sposarsi andrà perché ora mangia a casa il caldo e mangia ciò capìa perché se che riflette ben purtroppo si si che riflette mi quando chi vedo e c'era quei papaine rosse e quei fio quei rossi dico guarda se si è permesso e dice che guarda dove che siamo nei 2000 quando che vedo che ha fatto l'anno santo per rinforzare le casse del Vaticano perché sta qui o che ha inventato l'anno santo non per vocazione ma per chi era senza schei e che ha fatto questa bella invenzione ogni 50 anni e che fa fare schei a santo in senozzo ecco e contenti di farla e c'è ognun se parola di diventare armati come chi vuoi noi tutti siamo parolino armati come chi vuoi ma chi vuoi fare scala santa e che fa ciao ciao grazie allora intanto grazie a Michalili e in effetti e in effetti vedere un Dario Fo un anticlericale che si sta sempre più ammorbidendo essere premiato per la sua attività di anticlericale la sua attività di buffone di giullare effettivamente allarga il cuore allarga effettivamente il cuore al di là che poi si può anche non essere d'accordo con le cose comunque la storia di una tigre che io ho visto è effettivamente la voglia della persona di tirar fuori il cuore che ha dentro il coraggio che ha dentro il Dio che ha dentro per affrontare la vita in realtà poi ognuno interpreta un po' come vuole le immagini perché l'interpretazione giustamente è soggettiva e deve essere sempre soggettiva ritornando al passaggio di questa sera Lili mi so che è un po' ostico quello che ho detto ma in realtà ho detto essenzialmente questo la materia e l'energia vitale cioè l'essenza della vita e la materia sono la stessa cosa hanno una base in comune e la vita nella natura la vita degli esseri della natura gli uomini gli animali le piante non sono altro che un modo che è scogitato l'energia vitale per trasformarsi in coscienza cioè le piante gli animali l'uomo il virus il battere è un modo con cui l'energia vitale si trasforma da incosciente cioè che si muove libera nell'universo a diventare coscienza abbiamo detto che ci sono vari modi per trasformare l'energia vitale inconscia in coscienza i pianeti sono uno di questi esseri di energia solo le galassie ne esistono vari e alcuni che non li conosceremo mai probabilmente o forse un giorno li conosceremo anche però gli esseri della natura hanno queste peculiarità che possono percepire sia la materia sia l'energia vitale cioè possono alterare la loro percezione e vedere le cose in maniera diversa da quelle che appaiono dalla descrizione perché è importante poter vedere le cose in maniera diversa da quello che appare nella descrizione perché questo ci permette di capire che quello che noi conosciamo quello che noi vediamo è a una limitazione è limitato e che esiste uno sconosciuto esiste tutto un mondo da esplorare attorno alla nostra limitatezza cioè ci permette di dire che noi non siamo creati immagini in somiglianza di un Dio per cui siamo finiti qua nel comienzo mettersi in genoccio dice che c'è qualcosa di sconosciuto che ci circonda e noi dobbiamo diventare coraggiosi dobbiamo diventare intrepidi per affrontare quello sconosciuto cioè dobbiamo tirare fuori il Dio che abbiamo dentro l'energia vitale che abbiamo dentro la nostra volontà le nostre determinazioni prendere le nostre mani le nostre vite le nostre decisioni non sottometterci e affrontare lo sconosciuto che ci circonda questo dice praticamente a questo testo dice guarda che se tu vedi il mondo solo dal punto di vista della materia solo dal punto di vista della forma tu sei limitato esiste la possibilità di andare oltre a questo il cammino è sicuramente lungo io ho imparato a sognare ho imparato a maneggiare l'energia vitale che ero già molto vecchio diciamo avendo imparato vent'anni fa molto vecchio ho delle limitazioni per quanto io diventerò bravo sarò sempre estremamente limitato invece un bambino che è educato a prendersi nelle proprie mani la responsabilità delle sue cose della sua vita un adulto gli spiega l'arte del sognare o il modo con cui sognare lui diventerà molto abile le cose diventeranno molto facili per lui e diventerà molto più bravo di me a percepire le cose io già ho visto questo esistono già dei ragazzi che crescono da questo punto di vista e sapranno anche prendersi nelle proprie mani la propria vita cioè saranno molto determinati il problema è che se questi ragazzi poi passeranno dall'altra parte sarà molto duro combatterli in realtà comunque se non altro sapranno prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria esistenza e questo è importantissimo la distruzione di questo avviene quando noi rifiutiamo di usare la nostra volontà di usare la nostra determinazione diciamo tanto le cose sono così e in quel momento comincia un processo di distruzione cominciamo a metterci in ginocchio cominciamo a pensare che forse ci penserà qualcun altro forse qualcun altro ci penserà e ogni volta che noi facciamo una scelta costruiamo noi stessi o distruggiamo noi stessi se diciamo che qualcun altro ci penserà noi finiamo col dire che tanto ci penserà Dio invece di dire no siamo noi che dobbiamo prenderci in mano la responsabilità di quello che facciamo e così via diventiamo sempre più abili nel prenderci in mano la responsabilità di quello che facciamo dicendo tanto ci penserà Dio non facciamo altro che distruggere il nostro divenire noi non arriveremo mai a percepire il mondo diverso dalla forma ok concluso questo e ringrazio chi è riuscito a a seguirmi leggerò brevemente un altro capitoletto del dell'anticristo del mondo circostante ed è cristiani e psichisti attraverso una riflessione i cristiani mettono se stessi al centro dell'universo e pretendono che tutti ruotino attorno a loro gli psichisti ricordo che lo psichista è quella persona che usa almeno un elemento del crogiolo dello stregone gli psichisti mettono se stessi al centro dei propri interessi e si circondano di esseri che mettono se stessi al centro dei propri interessi quando due cristiani vale per ogni ideista si rapportano uno sta sopra e l'altro sta sotto uno si rafforza indebolendo l'altro uno si rafforza utilizzando l'altro uno accumula alle spese dell'altro i cristiani ignorano il tipo di guadagno fatto da chi si rafforza alle spese di un altro essere della propria specie non acquistano né energia vitale né potere personale traggono solo vantaggio dal rapporto di forza e dall'assoggettamento di altri individui che debbono indebolire complicandogli l'esistenza per impedire loro di prendere il sopravvento il loro è potere di avere attraverso il possesso di individui e del loro fare il cristiano deve costruire le condizioni attraverso le quali gli individui accettino la sottomissione uno psichista mette se stesso al centro dei propri interessi quando uno psichista si rapporta con un altro essere il rapporto è sempre di dare e avere dove il dare e il ricevuto è funzionale all'aumento della coscienza e la consapevolezza rendendo le mani di entrambi più abili non ci può essere dipendenza perché conoscenza e consapevolezza non si possono vendere ci circondano e l'abilità delle mani non può essere comperata appartiene al divenire dell'essere umano uno psichista sarà sempre interessato ad essere circondato da individui il più forte possibile da loro può attingere per arricchire la propria conoscenza e consapevolezza sarà sempre interessato ad essere circondato da individui il più abile possibile potrà arricchire l'abilità delle proprie mani uno psichista non si appropria del lavoro di altre mani senza dare il lavoro delle proprie mani in cambio un cristiano si appropria del lavoro di altre mani mani di individui più deboli contraccambiandoli con minacce terrore e controllo quando si guarda un evento questo è la risultante dei fenomeni concorrenti alla sua formazione egli è il devenuto e costituisce fenomeno che con altri contribuisce a fornire base per il divenire si possono analizzare tutti i fenomeni attraverso i quali la situazione attuale si è prodotta ma si può analizzare la situazione attuale per risalire ai fenomeni concorrenti nel produrla l'uno e l'altro sistema porta meglio contribuisce a portare alla percezione neumenica contribuendo a trasformare i sentimenti in conoscenza la conoscenza può avvenire o essere acquisita se vogliamo usare un termine in modo letterale anziché figurativo solo attraverso la trasformazione di se stessi questo non potrà mai accadere mettendosi al centro dell'universo costringendolo a ruotare attorno a se stessi ruotando a propria volta attorno a chi si pensa più forte la consapevolezza e la numenia appartengono allo psichista nel processo del suo divenire il cristiano non diviene in quanto creato di immagine e somiglianza del proprio Dio ad esso e agli adoratori di dei appartiene la fede e la forma come ossessione immutabile del proprio esistere qual è il il senso fondamentale di tutto questo il senso fondamentale è questo che se si rinuncia a se stessi si è costretti a rubare quello che manca a qualcun altro un cristiano non è un costruttore è un distruttore e la prima cosa che ha fatto il cristianesimo quando fu a Roma fu quello di distruggere l'impero romano la società romana l'importante per lui era costruire le condizioni attraverso le quali imporre la propria dottrina questo poteva avvenire soltanto distruggendo l'impero romano come lo ha distrutto lo ha distrutto una delle tecniche che ha usato è quella di costringere l'arico a devastare l'italia e a distruggere Roma saccheggiare Roma com'è che ha costruito l'arico impedendo all'imperatore orosio credo che fosse di firmare di mantenere le promesse che aveva fatto da l'arico l'arico era stato un comandante dell'esercito romano aveva fatto dei favori importanti a Roma e Roma gli doveva uno stipendio gli doveva dei territori come promesse in cambio dei suoi favori in pratica credo che avesse fermato i fisigoti credo però il papa non ha voluto il papa ha impedito all'imperatore di fermare il trattato e ha costretto l'arico a saccheggiare Roma saccheggiando Roma ha distrutto il sistema sociale e lo ha ridotto in miseria a sufficienza finché la chiesa cattolica imponesse la sua religione questo avviene più o meno quello che è avvenuto in Russia ultimamente sono abbattute l'intero sistema sociale russo è stato completamente distrutto sono state abbattute le statue di Lenin il che me ne frega molto relativamente però sono state costruite migliaia e migliaia di chiese e è stata ridotta la miseria sono state riempite di mezza prostituzione l'Europa si sono importate le donne a basso prezzo che era una cosa di cui la chiesa cattolica probabilmente ne aveva bisogno e ha potuto imporre il cristianesimo comunque la tecnica che stanno usando è più o meno la stessa con le giuste variabili che poi siano cattolici siano ortodossi siano meditarsi abbastanza relativamente l'importante invece è mettere al centro del mondo il proprio essere cioè la propria dilatazione la costruzione di se stessi questo è importante un cristiano questo non lo potrà fare deve necessariamente mettere in ginocchio le persone deve necessariamente per lui è una questione di vita o di morte è una questione di concetto per questo stavo dicendo nella trasmissione precedente che io non considero che un cristiano un cattolico possa essere convinto o convertito di cose diverse dalla sua religione gli si può sicuramente mettere dei dubbi in testa gli si può sicuramente mettere dei tarli in testa però non si può portarlo fuori dal suo pensiero religioso egli sarà perché il cattolicesimo è un sistema per assoggettare le persone io conosco moltissime persone che dichiarano di non essere cristiane però guai a toccare di Dio guai a toccare le immagini del Gesù buono anche se tu li leggi che Gesù era un criminale praticamente loro rifiutano questo loro rifiutano qualsiasi tipo di logica proprio perché hanno una costruzione soggettiva alla quale si aggrappano magari ti rifiutano il Papa però l'immagine della Madonna non sta a toccarmi l'immagine della Madonna eppure l'immagine della Madonna è una delle immagini più idiote che esiste nella storia sia come costruzione sia come determinazione sia sia con tutto cioè è un'immagine assolutamente inesistente tant'è che i cristiani per imporre questa immagine hanno dovuto accopiarla a Venere a Ecate a tutte le immagini della tradizione pagana mediterranea storpiandole storpiandole il significato storpiandole nel senso erano già storpiate gli imperatori ci avevano già pensato prima di loro però Iside per esempio hanno dovuto storpiare proprio per accopiare la Madonna e sovrapporla e dopodiché è sparita l'immagine pagana era già sparito il senso del paganesimo comunque sparisce l'immagine pagana e restava la Madonna davanti alla quale si mettono in ginocchio le persone quello che vi sto leggendo è il libro dell'anticristo e siamo arrivati alla concezione del mondo visto dall'anticristo cioè il mondo non più solo come forma ma come un qualcosa di diverso abbiamo parlato altra volta di eredità rinascita e coscienza della specie abbiamo parlato di energia vitale materia stasera ci siamo fatti una domanda tra cristiani e psichisti attraverso una riflessione e dobbiamo continuare continuerò probabilmente la prossima volta con discorso e considerazione su alcuni aspetti della percezione sole e pianeti come esseri viventi nascita e conoscenza di essere slegati alla vita animale e vegetale sul concetto di vittoria e sconfitta riferito alla via per lo sviluppo della coscienza di sé questo concetto sul concetto di vittoria e sconfitta è un concetto che per me è importantissimo è importantissimo io ve l'ho già letto nel corso delle trasmissioni sto pensiero ed è in pratica questo la sconfitta di un individuo non avviene quando il suo progetto fallisce avviene quando si rifiuta di progettare esistono degli stadi della vita umana degli stadi dell'esistenza in cui si dice beh basta non ce la faccio più beh forse ho fallito forse ho sbagliato magari da giovani si spaccava il mondo si era non so rivoluzionari si voleva cambiare tutto poi a un certo punto della propria esistenza si dice basta adesso cerco di farmi casa se si comincia a piegare a ripiegare sui bisogni e sui sogni ecco questo è il concetto di sconfitta il concetto di sconfitta è quel momento in cui non si va più a sfidare il mondo non si riesce più a mettere la sella sul ronzinante ma si preferisce ripiegare sistematicamente su se stessi la sconfitta in stregoneria è questo è il ripiegamento su se stessi ed è un modo di invecchiare fra virgolette al contrario la vittoria consiste nel continuare sfida dopo sfida cioè riuscire a continuamente a elaborare qualcosa di nuovo a fare qualcosa di nuovo a vedere il futuro come una cosa da costruire anche se uno ha 90 anni pensa ancora di poter fare qualcosa dopo io ho visto ho visto morire Cesare Musatti praticamente nel tervista poco prima che morisse era pieno di canette su pen naso non so era tenuto in vita con i flebbo non so neanche con che artifici eppure diceva io ho un sacco di cose da fare io ho una commedia ho questo ho quello vedi diceva l'intervistatore io qua ho un corpo che fa schifo il mio corpo ormai cade da tutti i pezzi non so neanche come fa stare in piedi eppure io ho un sacco di voglia da fare io ho un sacco di cose da fare ecco questo è un aspetto di uno spirito che non muore mai cioè di uno spirito che sa ancora vedere di costruire il futuro anche un attimo prima di morire perché in fondo noi non siamo solo noi stessi cioè non è che muore Sansone muore tutti i fiste cioè con tutti i fiste cioè muore Sansone e finisce tutto noi dopo di noi c'è la specie dopo di noi c'è tutto il resto cioè il noi continua però noi abbiamo la possibilità di coltivare il nostro corpo luminoso e il nostro corpo luminoso lo coltiviamo con le relazioni nel sistema sociale in cui viviamo per cui noi dobbiamo sempre essere creativi dobbiamo sempre spingere per per migliorare spingere per cambiare spingere per le cose che ci piacciono dobbiamo sempre continuare questo modo di essere non dobbiamo mai mettersi in ginocchio non dobbiamo mai dire qua è finito tutto dobbiamo mai affermare questo a volte le mazziate che prendiamo sono durissime e allora quando si prende una mazziata durissima in testa sembra quasi che tutto si blocchi però se un individuo ha un corpo di energia strutturato è capace di rialzarsi e di provarci cioè provaci ancora insomma fai un'altra cosa se viene sconfitto su un aspetto riprova su un altro se viene sconfitto nell'altro riprovaci ancora cioè nel riprovarci stella vera vittoria di un apprendista stregone e di un pagano riprovare sempre ad affrontare il mondo perché in fondo il mondo è vivo il mondo è cosciente è coscienza il mondo ci avvolge e questo è il senso generale del libro dell'anticristo una cosetta che volevo dire diversa dal libro dell'anticristo che non vedo nessuno di coloro che devo trasmettere per cui mi prenderò qualche altro minuto finché non arrivano una cosa che volevo nel giornale di ieri nel giornale credo sia il gazzettino o la repubblica adesso non so perché devo fare ancora la rassegna stampa del giorno precedente c'è un articolo in cui la scienza fra virgolette scopre l'intelligenza animale questo qua è un grossissimo problema che ha la scienza e che hanno i materialisti i materialisti di qualsiasi tipo perché l'animale in realtà noi come apprendisti stregoni lo conosciamo cioè conosciamo l'intelligenza animale le storie degli animali magici voi le troverete in tutte in tutte le fiabe le trovate dappertutto cioè ogni apprendista stregone conosce gli animali magici oh ecco qua che arriva qualcuno ciò che ciò che invece loro non sanno è che gli animali sono intelligenti l'intelligenza non è il parlare l'intelligenza non è il descrivere le cose l'intelligenza è la capacità degli esseri ci sono un sacco di aspetti per dire l'intelligenza comunque è la capacità degli esseri di affrontare la vita e di continuare a vivere bene a me mi è capitato a me mi è capitato di vedere un documentario a me mi è capitato di vedere un documentario sulla sull'arte della caccia della vibra della morte australiana allora la vibra della morte australiana per catturare le piccole prede di solito sono lucertole o simili usa un sistema che cattura prima un insetto e lo usa come esca allora voi sapete com'è il cervello dei rettili è un cervello minimale tant'è che è considerato l'embrione del nostro cervello però per fare un'azione del genere per usare un insetto per catturare una preda serve un pensiero astratto cioè serve un'elaborazione astratta di elementi per arrivare a delle conclusioni per arrivare a risolvere un problema e questo nel rettile scientificamente cioè la scienza fino all'altro giorno diceva che è impossibile bene la vibra australiana in questo documentario ha dimostrato che la scienza ha sbagliato perché questo perché la capacità di risolvere i nostri problemi inerenti alla vita non è determinata dal pensiero o dal cervello ma è determinata dal nostro essere cioè se noi siamo quelli che siamo adesso è perché il nostro nonno quel vermetto infimo quella porcheria che è uscita dal brodo primordiale che è sempre un essere umano ha saputo senza cervello risolvere i problemi della sua esistenza vediamo un attimo pronto? allora andiamo avanti ancora cosa vuol dire questo? vuol dire che gli esseri animali hanno capacità di elaborazione e questo parliamo del serpente ma io potrei parlare anche di vermi quello che volete lo stesso lo stesso discorso vale per le piante ormai ormai sappiamo che le piante parlano è scientificamente dimostrato cioè le piante hanno sentimenti parlano e si rapportano con le persone gli esperimenti di Blackster sull'emozionalità delle piante dimostrano non solo questo ma dimostrano che c'è anche un legame telepatico e questo è vero tanto più vero che l'università di Edimburgo si sta occupando di tre cose cioè analizzando tutti i fenomeni psi della persona delle persone delle cose ha scoperto che ci sono tre cose fondamentali l'obe cioè la capacità del volo astrale gli effetti NDE cioè gli effetti della premorte sensazione di premorte il déjà vu che è il vissuto che è la sensazione di aver già visto quella cosa e che avviene quasi esclusivamente in ambito familiare e la quarta cosa è la relazione delle piante la relazione telepatica che c'è nelle piante ora queste cose sono reali perché sono sperimentate cioè si può portare alcuni elementi all'interno della sperimentazione scientifica per dimostrare che queste cose sono vere per cui tutto quello che noi ci circonda gli animali le piante lo stesso pianeta eccetera si può dimostrare in questo momento che esistono delle capacità di comunicare che noi poi non siamo in grado di percepire quel tipo di comunicazione questo è un altro discorso che noi non siamo in grado di alterare la nostra percezione questo è un altro discorso però queste cose esistono e sono reali se volete vi porterò io la documentazione se avete dei problemi gli esperimenti di Blackstar vi dirò ancora di più a un certo punto la polizia americana ha pensato di usare l'emotività delle piante cioè le reazioni delle piante per individuare l'assassino perché si era accorto che una pianta in una in una in una stanza dove era avvenuto un omicidio provava un'alterazione psicologica in presenza di chi aveva operato l'omicidio delle piante sotto esperimento sono rimaste bloccate scioccate cioè hanno prodotto quell'effetto scioccante all'entrata di una persona e quella persona nel suo laboratorio era detta a seccare le piante dire dove posso portare non dico qualche chilo ma un numero sufficiente di esperimenti per dimostrare questo e tutto questo è dimostrabile che poi le persone vogliono accettare questo o vogliono non accettare questo questo è un altro discorso però tutte queste cose esistono e negarne l'esistenza a priori è sempre e comunque un atto di fede bene se permettete io qui chiudo la trasmissione questa trasmissione è magia stregoneria paganesimo io sono Claudio Simeoni via delle vignore 4 Marghera vi do l'indirizzo dell'istituto mediterraneo studi poiteisti che è casella postale 53 malostica vicenza vi do l'appuntamento per giovedì prossimo la trasmissione magia stregoneria paganesimo non so cosa farò il 25 dicembre vi ricordo che come ha detto l'amico Ivano nella trasmissione precedente è una festa pagana io vado un po' con le molle perché quando arriva l'imperatore il paganesimo viene un po' stuprato per cui vado un pochino con le molle comunque effettivamente il 25 dicembre era la festa del sole invito cioè l'invito al sole il sole che rispuntava allungava i giorni non c'entrava assolutamente niente con Gesù di Nazareth poi l'invenzione del presepe fatta da Francesco d'Assisi anche quella è un po' tutta un'invenzione non so cosa farò vi do appuntamento per giovedì il prossimo all'ora 15 a risentirci continueremo con i paganesimi e grazie per l'ascolto grazie per l'ascolto